Ti accompagno figlie mie, ti accompagno fino qui, la Madonna della Guardia guiderà il vostro cammino, se anche il mare e il mare in mezzo ci ridividerà lo so, il mio cuore sarà là dove andrete da oggi morire. Raccontate a tutti quanti, con le azioni e con l'artore, che è il Signore che vi manda, siate voi. La mano sua, io vorrei venire con voi, ma Don Bosco vuole che, Dio rimanda qui, Dio rimanda qui.